Se noi si pensa di contrastare l'espandersi del coronavirus e del covid-19, andando a discriminare tra allievi regionali, allievi provinciali, juniores regionali e provinciali o terza categoria, mi sembra si stia facendo veramente una discriminazione senza nessuna ragione. Regole poco chiare, anche a 48 ore dall'uscita del DPCM. Il mondo dello sport dilettantistico naviga in acque sconosciute, tra timori e paletti spesso di quasi impossibile applicazione. L'esempio più lampante, parlando di calcio, sono i settori giovanili. Il genitore di un bambino che fa la scuola calcio può portare il figlio alla scuola calcio, cioè alla società, e la società, come c'è scritto su questo DPCM, dovrà garantire un allenamento individuale. E anche qui poi bisogna vedere che cosa vuol dire individuale. A rendere il tutto più complicato, la distinzione tra campionati regionali e provinciali. Sono consentite le partite dalla seconda categoria fino all'eccellenza, sono consentite le partite delle categorie regionali di giovanissimi, allievi B, allievi e juniores regionali, ed è sospesa all'attività, solo per quanto riguarda le gare, ma non per gli allenamenti, dell'attività di base, cioè della scuola calcio. Regole confuse, insomma, per il mondo del calcio dilettantistico e per i settori giovanili, situazione che non ha fatto altro che aumentare le perplessità delle società. Le asle che adottano i giusti provvedimenti sanitari possono essere provvedimenti uniformi sul territorio, perché alcune asle sono più soft, vanno a cercare contatti stretti, altri non li vanno a cercare, quindi si crea ovviamente disparità.